Uuuuh, aspetta! Nooo! Eeeh, lo sai che sto già riprendendo? Non è la tipo stanza! Vabbè, ora proprio mi ingresciamo i cattivi del latino in questo nuovo video. Qua è Charlotte e una certa Ilaria. E stavamo facendo i compiti quando ci siamo concessi un attimo di divertimento. Cosa c'è? Ilaria, lo sai che la scorsa volta, quando ero con Gaia, Joker è venuto a casa mia. Sta continuando a suonare Charlotte. Sta continuando. Che facciamo, gli apriamo? Non lo so, Ilaria, l'altra volta era Joker. È vestito da postino. E infatti, secondo me non c'è niente... Non c'è nessun problema. Ma sei sicura di non aver ordinato nulla? Ragazzi, io non avevo ordinato assolutamente niente. Scusi? Chi è? Non avevo ordinato niente. Forse ha sbagliato. Ha sbagliato casa. Per me è quello da chi è? Cioè, chi è che mi ha dato queste cose? Scusi? Signore... Ha ordinato... Dottor Bob. È Dottor Bob. No, 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 no! Sei fermo lì! Camera man, vieni! Camera man! Camera man! Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Dottor Bob ti ho detto stai fermo l'altra. Vieni dentro. Camera man! Camera man, vieni! Si sta avvicinando camera man! Camera man! Veloce! Corri, 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 corri! Camera man, corri, corri, corri! Si sta avvicinando! Ragazzi, si sta avvicinando! Chiudi! Charlotte, chiudi! Il cavo del cappello, Charlotte! Non ho chiudo! Non ho la chiave! Dov'è la chiave? Fuori! Cioè! Non è fuori! Ah! Camera man! Charlotte! Aia! Aia, Charlotte! Non ce la faccio! Aia, Charlotte! Ah! Charlotte! Camera man! Camera man, vai dentro! Charlotte! Ci stiamo! Ci stiamo! Ci stiamo! Ci sono le chiavi fuori! Charlotte! Charlotte! Dai! Ci stiamo! Charlotte! No! Aia! No! No! Vieni qua! No! 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 I poni! No! No! Charlotte, che ha detto i capelli? Noi stavamo facendo i compiti I compiti? Ilaria ha capito? Adesso noi facciamo i compiti Ok? Mettiamoci a sedere Mettiti a sedere Mettiti a sedere Oh Oh Cosa? No Dottor Bogan Noi non te li diamo i capelli Prima questa ciocca solo per fare una prova se tagliano bene le forbici Questa piccola ciocca No no non così tanto Ok va bene così Basta solo per provare Ho un regalo per te basta basta Ho un regalo per te ok Ho un regalo E' buonissimo bellissimo Ed è veramente una cosa sensazionale E' straordinario Mangialo Assaggialo Assaggialo No 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 Prima questo ti prego Charlotte mi sono bucata anch'io anch'io mi sono bucata tutta per la tua basta dottor Bob Ilaria vieni qua c'hai bucato una mano e adesso abbiamo bucato la tua ok però basta stai fermo battene via cameraman bisogna chiamare aiuto vattene per favore vattene vai fuori cameraman non fai tanto dottor Bob dottor Bob basta per favore lascia il pony e battene via lascia il pony e battene via no no dottor Bob per favore no scelgo aspetta ahia non mi buca dottor Bob cameraman bisogna cercare aiuto bisogna chiamare qualcuno come facciamo? non lo so Ilaria andiamo dottor Bob dove va il pony? non possiamo seguirlo adesso è pericoloso no oddio è pazzo Ilaria dove sta andando Ilaria? dottor Bob sta uscendo dottor Bob non uscire dottor Bob no 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 vabbè meglio il pony che noi no? cameraman torna qua dove sono andati? cameraman torna qui cameraman non andare cameraman è pericoloso cameraman torna subito qua mi spieghi dove andavi? volevi andare dritto da dottor Bob era una trappola si era travestito da postino per ingannarci io io te l'avevo detto di non fidarsi di chi era e poi mi ha dato quei regali per ingannarmi nuovamente ragazzi ma il cameraman era andato là ma forse ha fatto bene bisogna andarlo a seguire c'è il pony è andato a sinistra vero? ok tu hai visto dove andava? allora alla prima uscita che troviamo bisogna andarci entriamo così così vediamo se c'è zitta 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 dov'è? là ho visto andare lì dentro dottor Bobo anch'io ti giuro ho visto di pantaloni eccolo eccolo cameraman attento sta facendo degli esperimenti al ci ha visto? al pony oddio cameraman nasconditi nasconditi cameraman nasconditi ok altre andiamo lì ok andiamo lì dietro uno due tre vai 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 che sta facendo? mi ha strappato dei peli nasconditi ragazzi nasconditi nasconditi non farti vedere stai facendo un esperimento un esperimento charlotte charlotte ilaria charlotte ilaria il pony il pony il pony il pony non lo fa per questo dottor Bob guarda un pipistrello un piccione un piccione cameraman cameraman veloce bisogna arrivare a casa cameraman veloce dottor Bob dottor Bob veloce 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 dottor Bob indietro cameron veloce 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 che cosa è entrato dentro carlotte no 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 ho preso l'altro pony il tuo libro basta per favore lascia il mio libro lascia il mio libro il pony no ancora no basta per favore il pony no il pony no scelgo su no scelgo su ah 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 dottor Bob per favore torna qui con il pony e battevi scelgo dottor Bob scelgo scelgo cameraman il pony si è fatta male scelgo mi sono fatta male la mano che cosa mi ha dato un calcio come è successo Ilaria Ilaria ti ha fatto male la mano si Ilaria 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 non hai più di serrotta non credo come non credi Ilaria riesci a muovere poco cosa significa poco dottor Bob è andato via Ilaria Ilaria che scato hai bisogno cercare qualcuno che ci fa seditare non so come fare cos양 è che ci fa grazie come sanguine Grazie a tutti.